Buongiorno e benvenuti su meteogiuliacci.it. Domani, venerdì 8 marzo, peggiora di nuovo su tutta l'Italia per l'arrivo dalla Spagna della perturbazione numero 3, che nel corso della giornata riporterà le piogge su tutta la nostra penisola. Vediamo questa perturbazione come è prevista dall'immagine del satellite virtuale e la sua posizione alle ore 13 di domani. Vedete che si tratta di un corpo nuvoloso che ancora è presente sul Tirreno e che nel corso della giornata poi si estenderà tutta la nostra penisola. Il tempo allora per la giornata di domani vedrà al mattino già le prime piogge sulle regioni di nord-ovest lungo il versante tirrenico, cielo nuvoloso, molto nuvoloso sul resto della nostra penisola. Nel pomeriggio invece le piogge si estenderanno a tutta la nostra penisola, molto probabilmente non pioverà ancora sul Salento. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno stazionarie ancora su valori ben al di sopra della media di questo periodo e con le massime che saranno per lo più comprese tra 10 e 14 gradi al nord e tra 14 e 18 gradi sul resto della nostra penisola con qualche punta anche di 19 gradi, soprattutto sulle due isole maggiori. A concluso, vi ringrazio per l'ascolto, ancora una buona giornata.